Ciao a tutti ragazzi, sono Carly, o Eke e Carly, e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft! L'ultima volta abbiamo costruito la mia casa, che è stata un po' così così, ci ho messo tanto tempo, è venuta carina, però ancora da decorare, è un po' da sistemare. Oggi faremo la cosa che amo di più fare in assoluto su Minecraft, ossia l'esplorazione nelle cave. Dopodiché ci faremo un'armatura in ferro, un'armatura un po' decente, visto che abbiamo solamente cose di cuoio. Entriamo nel mondo di Eke e Carly, per chi si fosse perso il vecchio video andatevelo subito a vedere e mettete like. Questa è la casa che abbiamo fatto la volta scorsa, che è venuta carina, è un po' vuota, poi la sistemeremo e la decoreremo un po' meglio. Vado a prendere un po' di carne da portare, direi che scenderemo per di qua, un po' di carne da portare nella cava, perché è una cosa indispensabile, chissà le cose indispensabili per andare in cava. Allora, sicuramente... Dov'è sparita la mucca? Giuro che c'era una... Ah, ecco te. Allora, le cose indispensabili per andare in cava. Secchio, pieno di acqua, sicuramente, però noi non ce l'abbiamo perché non c'è l'acciaio. Però è all'inizio di quella cava. Ok, prendiamo anche un po' di pollo finché... Uh, un uovo. Poi, ragazzi, più avanti, come vi avevo già accennato nell'episodio precedente, faremo una bella serra con una bella fattoria, avremo la nostra piantagione, i nostri animali, così avremo cibo infinito. Cercherò di fare una farm... Non l'ho mai fa... Oh! Oh! Vieni qua, pollo! Cercherò di fare una farm, onestamente non l'ho mai fatto. Oddio, sto morendo di fame! Perché l'obiettivo della farm è proprio quella di tirare magari solamente una leva che ti fa tutto lei, ti uccide l'animale, ti dà il cibo già cotto ed è molto comoda. Allora, prendiamo intanto le cose necessarie per andare nella cava. Prendiamo la crafting table, gli stick che sono sempre utili. Lascio nella cesta l'uovo che non ci serve. Cuocciamo un po' di cibo da portare via. La volta scorsa avevo trovato un po' di carbone, l'acciaio no. Avevo visto dov'era ma volevo aspettare di farlo con voi. C'è uno zombie qua sotto che non so dove sia. Maledetto! Ci portiamo un po' di legna, che ce l'abbiamo già qua, anche di questo tipo, va bene, basta averne. Poi io direi di portarci in miniera anche un po' di carbone, che è sempre utile. Speriamo che non mi esploda un creeper accanto, come ogni singola volta. La cava di prima era qua, giusto? Sì. Allora iniziamo subito con la raccolta, prendiamo un po' di carbone, così possiamo cuocere subitissimo l'acciaio. Vediamo quanto ce n'è e da lì poi valutiamo che tipo di armatura possiamo iniziare a farci. Ne abbiamo otto, possiamo fare i pantaloni o la... Che cos'è questo? Ci cuociamo un pochettino. Ah, giustamente ho usato tutto il carbone, sì. Iniziamo male. Sicuramente chi guardava i miei vecchi video insieme ad Ale, l'ho detto tante volte. Giocava a Minecraft ma hanno aggiunto così tante cose. Poi adesso c'ho questa versione che è più colorata e più luminosa rispetto alla versione di Minecraft normale. E in più ce l'ho in inglese. Direi di scendere per di qua. Non so cosa ci riserva il futuro, ma ci andremo. Piccolo update. Ho appena sentito uno zombie. Eccoti, ti ho sentito che sei vicino a me. Non so da che parte. Significa che c'è una caverna nelle vicinanze. Andiamo a fare a botte! Oh! Un po' di iron. Io ragazzi proverei a scendere verso il basso. L'importante è non scavarsi sotto i piedi. Mi sembra di sentirli un po' più vicini. Poi saprò tornare su? Scopriamolo nel prossimo episodio. Oh! Ok. Ok. Molto bene, molto bene. È qualcosa. Solo che sono messa malissimo a livello di armi, armatura. Vediamo cosa c'è qua sotto. Io di solito, per non perdermi nelle cave, visto che io mi perdo con una facilità incredibile, metto un po' di cobblestone in giro. Così riesco a capire e riesco a orientarmi dopo per tornare. Uh, eccoti. Vediamo quanto riusciamo a cuocere con due pezzi di carbone. E vedo di farmi un'accetta, che è meglio di una spada. E vedo di farmi anche un corpetto. Ma non credo basti. O forse sì. Non il creeper. Aiuto, ho paura! Ho paurissima. Forse riusciamo a farci il sei corpetto che lascia alla fine. Ecco ho fatto sta stupidaggine di fare tutte le torce. Chissà perché l'ho fatto, non lo so. E quindi ho sprecato tutto il carbone che avevo. Oh, Maddalena. E adesso? Quello che cos'è? Che cos'era questa? Direi di fare l'elmette in ferro. L'elmette in ferro. Un grande amico di Kendall. Vai! Ok, 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 ok. Va tutto bene, va tutto bene. Ok. Chi sei? Uno, due, tre. Oddio, uno, due, uno, due, tre. Non morirò qui, non morirò qui. Te lo giuro, non morirò qui. Scoppia! Non stavo da me! Oddio, no. No, l'enderman, vai via! Vai via! Sì, ma se l'enderman mi viene davanti alla faccia, è normale? Che poi io magari inconsciamente lo guardi, no? Giusto? Ha senso quello che dico? No? Eh, liscio! Eh! Dai, dai, avanti, avanti. Ok. Peggio è andato. Adesso raccogliamo il bottino. No. Ah, sì, ok, ce l'ho. Ero convintissima di aver finito il piccone. Raccogliamo un po' di carbone, così metto a cuocere l'acciaio. E riusciamo a farci magari un full iron prima della fine del video. E adesso che abbiamo, ops, adesso che abbiamo tre di acciaio, possiamo farci il piccone, così facciamo di gran lunga prima. Ma dove sei, ragno? Ti ho sentito, no? Oh, sì! Le ossa. Ragno, pipistrello. Da dove siamo venuti? Ecco, raga, iniziamo. Sono venuta da qua, vero? Vero? Sì, sono venuta da qua. Allora, facciamo una bella torretta, così, ecco. Tante luci attorno. Tanto ho fatto 4.000 torce, per errore. Raccogliamo un po' di iron anche qua. Guarda che ti ho sentito, sporco ragno. Dove sei? Alla ricerca del ragno perduto. Ho visto un creeper? Sì, sì! Lì c'è un creeper! Ok, va bene. Raga, proprio così. Furente, andiamoci furenti, furenti. Magari poi mi dà anche la polvere. Dio, che paura che mi sono presa. Mi sono presa paura. Qua cosa c'è? Che cosa? Ah, ma tutto sto casino per questi robi sconosciuti ed era normalissima. Qua sotto cosa sono questi? Posso raccogliere? Ma sono funghi del soffitto? Cosa sono? Scommetto che... Questo coso... Ah sì, mi dà... Ma che cos'è sta roba? Cosa tutte queste cose che hanno aggiunto? Il mistero. Cosa credete di fare? No, non ci credo, mi ha preso comunque. Due, tre, ok, ok. Muori, ok, perfetto. Quaggiù chi c'è? Vi sento, eh? Vi ho sentito, non ho paura. Non ho paura. Liscio. Siamo di nuovo qua. E giù per di qua invece... Raga, oddio, stavo per guardare l'enderman, ma... Mi sa che abbiamo trovato le ferrovie. Non ci credo. A cosa siamo vicini? No, io odoro le parti delle ferrovie perdute. Ok, mi sa che comunque l'esplorazione di qua... Sento anche della lava. La faremo nel prossimo video. Perché se no è tanto spoiler. Sì, 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 sì. Che bellezza, io le amo. Mi piacciono un botto e più mi ci perdo. Infatti, ecco, devo fare attenzione. Allora, di qua ci andiamo nel prossimo episodio. C'è un creeper. Uccido questo e finisce il video. Uccido lui? Uccido lui? Dove sei? Vieni qua? Vieni qua? Eh? Ok, non mi ha fatto... Uh! Uh! Oddio, non me l'aspettavo! Non me l'aspettavo! Tranquilli, siamo sopravvissuti. Allora, riprendiamoci qua e direi torniamo verso casa. Ora che abbiamo un po' esplorato... E possiamo anche farci il full iron. Uno. Voilà. Uno, due. Uno e due. Siamo ufficialmente con l'armatura full iron. Nei prossimi episodi andremo alla ricerca dei diamanti. Andremo in esplorazione delle ferrovie. E magari vedrò di farvi trovare un po' la casetta decorata. Perché così ancora in una situazione un po'... Bene ragazzi, lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto. Da Carly è tutto. E ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!